Ci stiamo allenando bene, sicuramente bellissime giornate che non basta, ovviamente nella prima partita abbiamo ancora avuto poco tempo per odiare i meccanismi, ma la cosa più importante è cercare, essendoci anche tanti giocatori nuovi, di amalgamare il più possibile il gruppo e la squadra, quindi trovare veramente coesione. Dopo la prima partita fuori casa, Francia e Parigi sarà ovviamente durissima, ma come sempre sei nazioni, quindi quello sul tuo punto di vista siamo pronti. Dopo penso che sotto il viaggio sarà anche tutto più facile, magari con più tempo passare assieme sarà anche facile poi trovarsi in campo. È stata parte di tutti i nuovi giocatori, voglia di essere protagonisti da subito e quindi loro portano l'entusiasmo e aumentano anche la competizione per gli zami vecchietti, perché comunque bisogna stare al basso dei giovani e dopo ovviamente anche noi cercheremo di dare una mano con l'esperienza che magari abbiamo maturato, ma l'importante è poi che se sono qua perché sono stati scelti e perché sono definiti i migliori, quindi dopo una volta che ci alleniamo, giovani o non giovani, bisogna essere tutti concentrati al massimo e veramente cercare di diminuire al minimo o eliminare gli errori, perché dopo la differenza sarà quella nei dettagli e nell'esecuzione. Ma sicuramente la conquista e quindi la mischia e le tuche saranno come sempre importantissime e la mischia soprattutto, visto che magari abbiamo avuto qualche problema nelle ultime due partite contro di loro e dopo la difesa e da lì costruiremo poi il resto della nostra partita, perché una volta che abbiamo i palloni, la mischia e tutti, possiamo cercare di costruire qualcosa in attacco e sarà importantissimo poi la difesa per 80 minuti perché penso che loro vorranno impostare una partita veramente in movimento anche a vista delle convocazioni e loro avranno la pressione del risultato.